... Vorrei che il nostro patrimonio artistico diventi veicolo occupazionale. Vorrei poter offrire un ampio e strutturato programma sportivo. Vorrei abbellire le piazze del nostro paese iniziando da Piazza San Carola. Vorrei una tassazione più leggera per i veriti bassi e per le famiglie in difficoltà. Vorrei garantire una manutenzione programmata degli impianti sportivi. Vorrei istituire un sportello sociale per le facce più di noi. Vado a una civata misura di giovani, più vive e partecipate. Vorrei sostenere le attività di vivere economi a tutela dell'ambiente. Vorrei che ci fosse un fondo per la comunità per combattere la disoccupazione. Vorrei un'area attrezzata di guardare. Vorrei realizzare un centro di urno per gli anziani. Perché una donna? Perché è necessaria una svolta concreta con cambio di mentalità e approccio nella vita amministrativa. Per me amministrare un comune significa avere come scopo il raggiungimento del bene di tutti e saper condividere le scelte con voi. La nostra lista, a partire dal candidato sindaco, si compone di donne e uomini che provengono dal mondo del lavoro e che vogliono offrire parte del loro tempo per il proprio paese per una corretta gestione delle risorse pubbliche e locali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.